Buongiorno, buona domenica a tutti, domenica 28 ottobre, vediamo subito che cosa è successo sui giornali oggi. La cosa fondamentale mi sembrano le divisioni all'interno del Movimento 5 Stelle, tutto deriva da due titoli, quello del Repubblica e quello del Corriere della Sera, i giornali più diffusi in Italia, TAP, la rivolta della base. In realtà poi la base del Movimento 5 Stelle non si capisce bene se è rappresentata da alcuni pugliesi, se è rappresentata da alcuni deputati pugliesi, se è rappresentata soltanto da una specie di 50 persone, 100 persone, 1000 persone, 2000 persone, 3000 persone rispetto a un partito che ha preso milioni di voti. È molto interessante questa idea che noi abbiamo, loro, e noi abbiamo della democrazia, per cui 2000, 3000, 5000, 10000, 20000 persone siano la rivolta della base. Devo dire, visto invece i risultati che loro hanno nei loro primari e sul Rousseau, forse ha ragione Corsiera e Repubblica. Repubblica la gira diversamente, dice siccome non si può fare e bloccare la TAP, Di Maio rilancia la no TAV e questo sarebbe molto grave perché se per mettere a posto un buco, cioè quello di Meledugno, cioè in Puglia, per portare il gas si deve evitare di fare altri buchi che sono già partiti, insomma Dio ce ne scampi. Minzolini, molto divertente oggi sulla giornale, dice in realtà state attenti che hanno un grande asso nella manica, quelli del Movimento 5 Stelle, cioè Trump, che li difende e già si accorge, Minzolini, di come ci fu l'accordo, dice, tra Conte, Presidente del Consiglio e Trump quando Conte andò in America, proprio esattamente sulla TAP, a cui gli americani contano, sulla quale contano moltissimo e dice in maniera, diciamo, un po' dietrologica Minzolini e forse si può mettere in relazione a questo il fatto che Standard & Poor's non abbia abbassato il rating dell'Italia, cosa peraltro che è passata sui giornali come se fosse una cosa così qualsiasi, ma invece effettivamente è un dato fondamentale. Bisignani oggi sul tempo si accorge di una rottura, oltre a con la base, da parte del vertice, cioè di Casaleggio, che guida di fatto il Movimento 5 Stelle e il commissario politico del Movimento 5 Stelle, Casaleggio avrebbe deciso di far fuori Toninelli, questo sul tempo di oggi. Infine, Travaglio, lo strigione del Movimento 5 Stelle, oggi si accorge delle piazze e fa una specie di pezzo onirico per evitare di dire quello che avrebbe detto se non fosse stata la Raggi oggetto di queste piazze, cioè che ieri c'è stata una grande manifestazione a Roma contro la Raggi e iniziano a esserci dei segnali a Roma, dove la Raggi prese il 75% dei consensi al secondo turno, iniziano a esserci fantastico, fai pena il giornalaio. Io adoro questi cretini che la domenica mattina vengono qua, si collegano, mi pagano, sostanzialmente mi pagano con i like che è la nuova moneta, per dirmi che cosa fai pena il giornalaio e quello che cosa fa che sta qui collegato, un deficiente. Allora, torniamo alla Raggi. Gli italiani e i romani soprattutto si rendono conto, quindi, che probabilmente la luna di Miera e dopo due anni è saltata. Sul messaggero la Raggi intervistata, messaggero è uno dei giornali più duri sempre con la Raggi, dice sono due anni che chiedevo polizia, maggiore polizia a Roma. Vabbè, insomma, stiamo a vedere che cosa succederà, però devo dire la verità che questo è piuttosto inconsueto, cioè una città che inizia un po' a ribellarsi. Sulle pensioni parla il messaggero come di consueto. Ci sono due elementi sulle pensioni che vi sognano. La prima è che il taglio sarà per 5 anni e fino al 20% riguardo alle pensioni d'oro superiore ai 4.500 euro. In discrezioni dunque del messaggero sulla manovra riguardo alle pensioni d'oro e inoltre il messaggero nota come gli statali che andranno in pensione a quota 100 avranno un assegno ridotto del 13% e ci mancherebbe. Se va in pensione a 62 anni invece che a 67 sarebbe incredibile che quello di 67 prende lo stesso assegno di quello di 62 o no in un paese normale, avendo fatto 5 anni di contributi in più. Il Sole ci racconta a proposito dei pensionati a 62 anni che questo governo in maniera geniale vuole fare, che noi, come sempre, ve l'ho sempre raccontato, dovremo assumere 140.000 persone. Dove le assumiamo? Nella pubblica amministrazione, cioè in una città come Roma che fa qua da tutte le parti, in cui i dipendenti hanno un mese di vacanza in più rispetto allo stabilito perché si fanno i cavoli loro? Bene, noi assumiamo 140.000 persone in più come dipendenti pubblici. Nel frattempo però ne mandiamo via alcuni in maniera privilegiata e sono i piloti dell'Alitalia, gli assistenti di volo dell'Alitalia, l'assistente a terra dell'Alitalia che secondo una indiscrezione oggi sempre del messaggero andrebbero in pensione due anni prima, quindi non a 67 ma a 65 anni, solo ad hoc per loro, in maniera da ripulire per l'ennesima volta il carrozzone Alitalia. Se a voi va bene, tanto paghiamo tutti quanti noi Alitalia per farlo, manterranno e prorogheranno quella tassa di cui voi non vi accorgete ma ogni volta che prendete un volo la pagate di 3 euro, quindi in Italia ogni volo costa 3 euro in più per una tassa destinata al fondo di solidarietà dei piloti, al fondo pensione dei piloti, inizialmente di tipo assistenziale. Carletto, ciao, Carletto si è collegato da Napoli, oggi non parlo di De Magistris ma spero che il tempo a Napoli sia migliore di quello che a Milano e che mi dicono essere a Roma oggi, un disastro. Un super abbraccio al mio amico Carlo. Della Raggi vi ho parlato, delle pensioni vi ho parlato e riguardo l'economia c'è soltanto da segnalare che il ministro dell'economia Tria dà ragione e difende Draghi, stessa cosa fa il ministro Bonafede oggi sulla stampa che dice, scusatemi sul fatto, che dice Draghi non è il nemico. Bene, se ne sono accorti. Altra notizia di giornata straordinaria è sul Corriere della Sera in prima pagina e la Lega, chi avrebbe scelto, d'accordo con il Movimento 5 Stelle, alla guida del più importante telegiornale italiano, cioè il numero 1 del TG1, andrebbe Federica Sciarelli. Io un po' ce l'ho, ve lo dico esplicitamente perché Federica Sciarelli brindò probabilmente a limonata quando virus fu chiusa e disse in un'intervista famosa, insomma, ma per quale motivo hanno dovuto prendere porro per fare virus? Potevano prendere chiunque altro e poi comunque era un programma che ovviamente non le piaceva perché la pensava diversamente da una comunista, una catto comunista o forse solo comunista come lei, cresciuta e non è un insulto, spero che non mi possa querelare, anche perché il mio timore quando parlo della Sciarelli, essendo la fidanzata la compagna di Woodcock, almeno così ho letto su Vanity Fair, almeno così ho letto nelle carte dei magistrati quando la indagarono, essendo lei la fidanzata di Woodcock ho sempre paura a parlare male della Sciarelli che io invece adoro perché non si sa mai come si inizia con Woodcock e come si finisce con Woodcock, compagno della Sciarelli. La Lega quindi vuole la Sciarelli e Woodcock alla direzione del TG1 e soprattutto mi diverte perché è quella che fino a due o tre anni fa, quando si parlava della Lega, a un certo punto arriva uno che aveva fatto 20.000 km in bicicletta, una specie di Forrest Camp, arriva a chi l'ha visto, non so per quale diavolo di motivo, arriva a chi l'ha visto questo che ha fatto 20.000 km in bicicletta e dice stai attento che se sei vestito così trovo, cioè fa una battuta, battuta mica tanto, sulla Ruspa, sul fatto che Salvini è quello della Ruspa, di un urbano. Ovviamente quando la Ruspa nel 2015 non vinceva le elezioni, lei faceva le battute e adesso probabilmente che le elezioni invece le ha vinte la Ruspa, chissà come lei farà il direttore del TG1. Nel frattempo ci sono due storie dell'America che vi segnalo, anzi un'altra dall'Italia che è straordinaria, cioè che cosa ha fatto il giornale di Belpietro? Ha detto ai lettori segnalatici libri in cui ci sono delle cose assurde, non so quelli in cui raccontano che i cattolici sono cattivi e brutti, che gli immigrati sono una risorsa per questo paese e secondo dati scientifici che non esistono, cioè delle cose che sono ovviamente discutibili ma che comunque ovviamente i lettori hanno il diritto di scrivere. Riceve una lettera dall'Associazione degli Editori e dice come vi permettete la libertà editoriale! E allora loro hanno la libertà editoriale di scrivere nei testi dei nostri figli che la civiltà cattolica ha distrutto l'Occidente e lui non ha la possibilità di farsi scrivere una lettera dai propri lettori. Devo dire che Belpietro su questo ha ragione da vendere, sui libri di testo politicamente distorti. L'ultima cosa che voglio raccontarvi è la strage in sinagoga che è avvenuta ieri a Pittsburgh in America. Cosa succede? Io vi leggo che cosa scrive il principale giornale italiano sulla strage in sinagoga dove sono stati uccisi da un pazzo sovranista bianco, un neo nazista evidentemente, 11 ebrei che avevano l'unico difetto di voler andare a pregare nella loro sinagoga. Cosa scrive Massimo Gaggi oggi sul Corriere della Sera? Sto parlando del più importante giornale italiano. Titolo Trump l'incendiario sdogana gli estremisti. Cioè è Trump ad aver armato sostanzialmente da un punto di vista intellettuale l'arma di questi qua. Gli estremisti si sentono spinti, si sentono spinti ad uscire allo scoperto con azioni clamorose. Ancora, sempre più sottile la divisione tra l'invettiva politica e l'invito alla reazione violenta. Cioè sostanzialmente oggi, senza vergogna, non sul manifesto, non sul giornale anti-Trump, ma su un giornale più importante, il giornale italiano, in cui noi paghiamo dei giornalisti, noi che compriamo il Corriere della Sera per stare lì in America e comprendere e sentire gli umori dei giornalisti, noi prendiamo uno che ci spiega che l'invettiva politica è un invito alla violenza e l'invettiva politica sarebbe stato dal presidente Trump, il cui genero è un ebreo, il cui amico principale e alleato principale sullo scacchiere mondiale si chiama Benjamin Netanyahu, presidente di Israele e che ha fatto tutti gli accordi di politica estera a favore degli ebrei e di Israele e mi sento che lui è il mandante di una strage di ebrei in America. Allora vale tutto, se questi sono gli occhi della politica estera del Corriere della Sera, sapete che voglio? Chiudo gli occhi e mi leggo Maria Giovanna Maglie sul Dago Spia, in cui cerco gratis di avere informazioni un po' più equilibrate su Bolsonero, su Trump, sui nuovi fenomeni populisti, perché la trovo una cosa incredibile. Detto questo vado a Roma a preparare la puntata di Quarta Repubblica domani sera, Quarta Repubblica come tutti i lunedì su Rete4, in prima serata parleremo del caso di Desiree e soprattutto del motivo per il quale 3-4 persone che l'hanno massacrata e uccisa non siano in carcere, non siano state messe in carcere dopo che erano già state condannate per violenze e per atti molto simili. La certezza è la pena in questo paese, non solo, che cosa vuol dire un paese sempre più insicuro e come gestire la sicurezza. Ci penserà Lasciarelli con Woodcock. Ciao!